Ma che amore di ragazza, ma che amore di ragazza, ho trovato questa sera un monte di prosi da occhi azzurri, dove il sole, labbra rosse, io che non mi devo fare, ai! Io sogno e nel mio sogno vedo che, non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più, quando siamo alla fine di un amore, soffrirà soltanto un cuore, e dell'altro se ne andrà. Ora, che sto pensando ai miei domani, sono bagnate le mie mani, sono la fine di un amore. Siamo a Villa Matarrese, siamo qui con il grande Don Baki, chi non ricorda e conosce Don Baki, le sue canzoni sono famosissime nel mondo, come poesia, canzone e tante altre. È stato pure un bellissimo attore negli anni 70, con Lizzani. E siamo qui con Aniello, uno dei promotori di questa serata, qui a Villa Matarrese. Allora, volete fare un saluto a Monte di Procida? Certamente, molto volentieri, perché tra l'altro io mi sento un po' un montese praticamente, perché è già la terza volta che vengo, per cui mi sembra di stare a casa mia. Soprattutto perché ho trovato un gruppo di amici che sono capitanati da Aniello, che è il mio amico filato, la mia protesi a Monte di Procida. Per cui diciamo che sono felice veramente. Ogni volta ci sentiamo per telefono, dico sempre di salutare tutti gli amici, tutti i montesi certamente, e quindi sono contento di essere qui. E approfittiamo anche per fare, noi abbiamo tanti montesi, forse di più di quelli che vivono qua all'estero. Un saluto? Un saluto a tutti i montesi certamente, ovunque si trovino, ecco, questo è poco ma sicuro che è così. Aniello, puoi dire qualcosa? Io sono soddisfattissimo di questa serata, in quanto da piccolo sono stato sempre un fan di Don Baki, perché le sue canzoni, a mio parere, sono poesie, quindi non sono manco canzoni normali. E diciamo che cantare è quasi di tutti, ma scrivere delle poesie deve essere per forza un artista, quindi a me l'arte piace molto, ragion per cui quando posso portarlo a Monte di Procida più sono soddisfatto. Grazie della bella serata, facciamo un bel applauso a Don Baki, grazie e portalo a Monte, grazie e portalo a Monte, grazie e portalo a Monte, grazie e portalo a Monte. Grazie. 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 Grazie.